Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Gaffur messo alle strette confessare un terribile segreto, e non solo, vedremo che a Kukurova si diffonderà la voce dell'aggressione di Demira Beis. Cosa succederà? Siete pronte a scoprirlo? Iniziamo. Fekeli e Mujgan sono seduti a tavola, e lei informa che Beis si trasferirà a Istanbul, poiché la zia è consapevole che non può più vivere a Kukurova. Fekeli le chiede se ha bisogno di qualcosa, ma Mujgan lo ringrazia, dicendo che ha già fatto tutto il possibile. Fikret è a cena con il cugino, il quale gli confida che non avrebbe mai immaginato che si sarebbe innamorato. Fikret racconta che suo zio li ha visti e gli ha chiesto se fosse innamorato di Mujgan, sottolineando che non dovrebbe turbare Mujgan dopo tutto ciò che ha passato. Fikret ammette di non sapere esattamente cosa provi perché è una sensazione nuova, e sente che il suo cuore è in lotta con la ragione. Tuttavia, quando incontra Mujgan, il suo cuore batte solo per lei. Nonostante ciò, sa che deve ancora ragionare, poiché è consapevole che l'amore può essere distruttivo e che non vuole innamorarsi di nuovo. Ciò che Fikret non sa è che nel tavolo vicino c'è Chetin, che ha ascoltato tutta la sua confessione. Gaffur osserva Saniyai, visibilmente agitata per ciò che le ha confessato. Le consiglia di calmarsi, dicendo di già soffrire abbastanza. Saniyai, tuttavia, gli risponde con durezza, sostenendo che le sue mani sono sporche di sangue e che finirà all'inferno se verrà scoperto. Aggiunge che chiameranno Uzum, la figlia dell'assassino. Gaffur è visibilmente preoccupato e angosciato, implorando a Saniyai di capire che non avrebbe mai voluto che le cose si sviluppassero in quel modo. Gulten nota che Saniyai non sta bene e le chiede se Gaffur ha combinato qualcosa di grave. Saniyai risponde negativamente e Gulten la manda a casa con Chetin. Nel viaggio in macchina, Gulten nota che Chetin è profondamente assorto nei suoi pensieri, tanto da rischiare persino un incidente. Dopo essersi ripreso, le racconta di aver visto Fikrette in un negozio di kebab e di averlo sentito dichiarare il suo amore per Mushgan. Gaffur è sconcertato da come Fikretta abbia mancato di rispetto a Ilmatz. Durante la cena, Zuleyha chiede a Saniyai se ci sono problemi. Saniyai nega. Ma Zuleyha, che conosce bene la sua amica, le chiede se Gaffur abbia combinato qualcosa. Saniyai esita, ma non riesce a rivelare il motivo. In quel momento, Demir rientra, e Saniyai se ne va. Zuleyha chiede a Demir se uscirà dopo cena, ma lui le risponde di no, poiché vuole trascorrere del tempo con i suoi figli. Zuleyha è felice e gli fa notare quanto i bambini sentano la sua mancanza. Fekeli si ritira nella sua camera, sedendosi di fronte al quadro di Ankar. Parla al quadro, esprimendo il desiderio che lei fosse ancora con lui, in modo da poter condividere i problemi. Gli confida che il suo sguardo lo aiuterebbe a trovare soluzioni e che senza di lei non c'è gioia, emozione né nulla. Gaffur porta Uzum, che si è addormentata tra le sue braccia, sul letto e inizia a piangere. Le confessa che non sa come farà a lasciarla quando verrà arrestato. Le assicura che non deve essere arrabbiata con lui, poiché ha agito per il bene della figlia, ma che avrebbe dovuto evitare tutto ciò. Gaffur le dichiara il suo amore e le chiede di non dimenticarlo quando sarà in prigione. Successivamente, Gaffur raggiunge Saniai, vedendo quanto sta soffrendo. Le giura che non voleva che le cose si sviluppassero in quel modo, ma ha fatto tutto ciò per lei e per la loro figlia. Saniai rivolge a Gaffur una domanda che potrebbe bruciare. Hai mai pensato a lei? Tutto è iniziato dopo aver scoperto che Atip era il colpevole dell'omicidio di Cengavie. In un momento di pura follia, Saniai aveva scritto una lettera di ricatto, sperando ingenuamente di farci un bel gruzzolo. Ma Atip, ladro e assassino, non aveva intenzione di accontentarla. Anzi, aveva minacciato di ucciderla, il che rende miracoloso che sia ancora in vita. Gaffur si scusa amaramente, ammettendo che, se avesse saputo meglio, non si sarebbe mai prestato a quel gioco. Ma Saniai ribatte, chiamandolo sciocco e sottolineando che anche se Atip avesse ceduto ai suoi desideri avariziosi, quei soldi sarebbero stati avvelenati. Gaffur dovrebbe riconoscere il valore di tutto ciò che Saniai gli ha dato. Cibo, una casa, salute e persino una figlia adorabile. Cosa avrebbe potuto desiderare di più? Ora, a causa della sua avidità, si trovano in una situazione senza via d'uscita. Se confessasse a Demir, finirebbe in prigione. Se tacesse, diventerebbe schiavo di Beis. Deve capire che ha distrutto non solo la sua vita, ma anche quella di Saniai e di sua figlia. Gaffur rimane in silenzio, gli occhi colmi di lacrime. Nel frattempo, Demir, dopo aver giocato con Adnan, lo mette a letto. Sevda ne approfitta per condividere con Zuleyha la sua gioia nel vedere Demir di nuovo a casa, poiché è evidente che lei lo desideri profondamente. Zuleyha la prega di non dire altro, ma Sevda non la ascolta e le chiede cosa potrebbe volere di più, avendo l'uomo che ama al suo fianco e che si prende cura dei suoi figli. Mushgan attende ansiosa il ritorno di Fikret, e quando lo vede avvicinarsi, lo accoglie alla porta. Inizialmente sembra felice, ma poi si irrigidisce e gli dice chiaramente di non aspettarsi nulla da lui, poiché non è adatto a lei. Poi se ne va, lasciando Mushgan attonita. Zuleyha, prima di andare a dormire, controlla i suoi bambini e nota che Demir dorme abbracciato ad Adnan nel lettino. Zuleyha cerca di svegliarlo, ma lui le dice che quella notte dormirà con suo figlio. Nel frattempo, Mushgan rimane sveglia con una profonda tristezza, ripensando ai momenti felici trascorsi con Fikret. Anche lui non può trovare il sonno, tormentato dai pensieri di lei. Zuleyha, altrettanto insonne, si perde nei ricordi dei momenti belli trascorsi con Demir quella notte. Nel frattempo, Fekeli è sveglio e si è recato nel luogo in cui si incontrava con Ankar. Ha preparato una tazza di tè per sé e una per lei. Tenendo tra le mani il fular di Ankar, lo bacia con affetto. Saniyai e Ghaffur, a loro volta, sono svegli. Saniyai è agitata e gli confida che prima o poi Beis li denuncerà. Anche se li ridurranno in schiavitù. Demir, inevitabilmente, verrà a conoscenza di tutto. Quindi, gli dice che devono condividere la verità con Demir. Ghaffur è terrorizzato. Ma Saniyai insiste sul fatto che non hanno altra scelta. E sicuramente Demir non li lascerà in prigione per sempre. Ghaffur ammette il suo timore di morire senza poter vedere né lei né Uzum. Inizia a piangere e Saniyai lo abbraccia, consolandolo come un bambino. Poi gli assicura che lui sconterà la sua pena e che lei e Uzum lo aspetteranno. Nel frattempo, in paese, la notizia si diffonde rapidamente riguardo al tassista che ha denunciato obeis a Demir come l'assassina di Ankar. Si sa che Demir voleva ucciderla, ma Zuleyha l'ha fermato. Anche Rashid alimenta queste voci, esagerando i gesti di Demir. Poi afferma che il tassista stava mentendo solo per ottenere il milione di lire promesso da Demir per chi fornisse informazioni. Sermin si reca nella sua pasticceria preferita. E il commesso le chiede cosa sia successo a Villa Yaman, poiché tutti ne stanno parlando. Lei non sa nulla, e il commesso le racconta la storia del tassista e di Demir che voleva strangolare Beys, salvata dall'intervento di Zuleyha. Sermin gli chiede come sia venuto a saperlo, e lui rivela che Rashid sta spargendo la voce ovunque. Nel frattempo, Saniy sta portando Ghaffur da Demir, che è nelle stalle. Tuttavia, Demir interrompe il loro cammino e dice a Saniy che Ghaffur deve spiegargli qualcosa che lei avrebbe dovuto sapere in anticipo. Demir chiede a Saniy di essere chiara, e lei confessa che Ghaffur ha commesso uno sciocco errore, sapendo che avrebbe causato problemi. Ora, però, ha macchiato le sue mani, e Demir cerca spiegazioni da Ghaffur, che esita ma alla fine e ammette di aver ucciso Atip, il quale aveva ucciso Cengavie. Demir si infuria e rivolge a Ghaffur una domanda intensa. Ti rendi davvero conto di ciò che hai fatto? Ghaffur risponde affermativamente, riconoscendo che lo ha fatto quando Demir gli ha puntato la pistola alla testa e hanno lottato. Demir insiste e gli chiede di raccontare ogni dettaglio, ma Ghaffur rimane in silenzio. Questo silenzio fa infuriare Demir. Saniyai, preoccupata per la situazione, decide di raccontare tutto al posto di Ghaffur. Con voce tremante, rivela a Demir tutte le azioni compiute da Ghaffur. Demir, furioso, colpisce Ghaffur e gli dice che sapeva chi era l'assassino di suo fratello Cengavie, ma Ghaffur non glielo aveva mai detto, cercando invece di estorcere denaro. Saniyai implora Demir di non fare del male a Ghaffur e afferma che sono andati da lui nella speranza che potesse consegnare Atip. Poi gli rivela che la lettera di ricatto è in mano a Sermin, che ha assistito all'omicidio di Atip e lo ha riferito a Beis. Demir è sconvolto e chiede a Ghaffur se Beis lo sta ricattando, e Ghaffur conferma. In quel momento, Sermin, avendo sentito l'intera conversazione, fa il suo ingresso nella stalla. Demir le chiede di cosa sarebbe testimone, ma lei nega di aver visto uccidere Atip e respinge l'idea di avere la lettera di ricatto. Demir la pressa a dire la verità, ma lei continua a mentire, sostenendo che Ghaffur è impazzito. Poi, sottolinea che Beis è ossessionata da Demir e ora è altrettanto ossessionata da Ghaffur. Demir, inaspettatamente, la ringrazia e la congeda, ordinandole di tornare alla villa. E con questo, giungiamo alla conclusione di queste anticipazioni di, Terra Amara. Qual è la tua opinione? Condividila nei commenti. Se hai apprezzato il video e desideri saperne di più sulle prossime puntate, lascia un commento con, voglio saperne di più, e presto ti aggiorneremo con un nuovo video. Alla prossima e ciao!